Armor System produce dispositivi di protezione individuale contro agenti chimici ed infettivi nei propri stabilimenti in Italia. Fa parte del gruppo Dive Industries, che dal 1993 produce DPI per uso subacqueo per il settore professionale e militare con i marchi Dive System e Razio Computers. Il gruppo fornisce pressoché tutti i reparti militari subacquee italiani. Brillamento! Marina Militare, Carabinieri Subacquei, Colmoskin, Lagunari, i corpi del Ministero dell'Interno, Vigili del Fuoco, Polizia di Stato, oltre a molti reparti militari esteri, è codificato Nato ed esporta in oltre 30 diversi paesi nel mondo. Tutto il know-how acquisito con la produzione di mute stagne è stato riversato nella produzione di tunte, camici ed accessori per la protezione da agenti chimici ed infettivi. Precisa scelta è quella di eseguire direttamente nel proprio stabilimento l'intero ciclo di produzione dei DPI. In un unico centro di oltre 2500 metri quadri, la materia prima entra come bobina, viene tagliata e cucita in catena di montaggio utilizzando sia i più recenti macchinari automatici che l'esperienza sartoriale di oltre 60 operatori, fino a lasciare lo stabilimento come DPI, a norma CE, confezionato e pronto per l'uso. La produzione diretta consente un controllo qualitativo costante e completo su ogni singolo DPI prodotto. Permette inoltre di offrire garanzia di approvvigionamento continuo anche in caso di emergenza o chiusura delle frontiere. Tutti i fornitori di materia prima di Armor System si trovano infatti entro un raggio di 150 chilometri dall'azienda. Spesso da un nostro prodotto dipende la vita di un uomo. Con la stessa cura con cui realizziamo una muta stagna che protegge un operatore subacqueo della marina militare ad oltre 100 metri di profondità, realizziamo una tuta che protegge un operatore sanitario in condizioni altrettanto estreme. Armor System. I migliori. Pretendono solo il meglio.